ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono daniele danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di the sims 4 usciamo insieme allora come vedete come avevo detto anche avendo un po di soldi ho migliorato la cucina ho messo finalmente un tavolo dove i nostri due sim potranno pranzare e ho spostato appunto la porta che da qui l'ho messa qui perché ho intenzione comunque qui dietro quando avrò un po di soldi di fare un piccolo diciamo una piccola verandina niente di che anche perché prima voglio migliorare appunto il resto della casa allora ragazzi la nostra la nostra katia sono e lunedì e sono le tre il nostro riccardo aveva partecipato ad una festa e si era ritirato alle 5 di mattina e anche la nostra katia era in piedi quindi hanno dormito fino ad ora la nostra katia sta appunto facendo una sorta di colazione pranzo perché ora andrà al lavoro e oggi molto molto carina perché oggi passeremo invece una giornata un po diversa perché appunto passeremo una giornata con una delle famiglie diciamo standard del del gioco le famiglie preimpostate del gioco mandiamo ovviamente katia al lavoro e poi andremo appunto in una nuova famiglia perché voglio voglio un po sperimentare il le altre famiglie che con cui io poi alla fine non ci ho mai effettivamente mai giocato quindi per la prima volta vedrò anche un po i loro diciamo le altre famiglie allora mandiamo la nostra katia al lavoro tratto ispirata quindi di regola dovrebbe anche essere promossa si trova il lavoro mettiamo lavoro suodo perfetto e andiamo a gestisci salva e vai a gestisci gli scenari perché adesso andremo a vedere la la famiglia che appunto sceglieremo vediamo una sta salvando cosa molto molto importante e se voi pensavate che la famiglia scelta dovesse essere quella degli alberghini invece no ragazzi perché siamo in casa caliente qui troviamo la nostra catrina che è la nuova diciamo sim inserita nella famiglia caliente che sarebbe la mamma di dina e nina caliente che sono sorelle in più in famiglia caliente vive con loro don lotario che ovviamente è come al solito il bello della situazione allora innanzitutto dobbiamo mandare assolutamente le due sia catrina che dina in al lavoro e inizieremo anche a vedere la casa qui c'è la cucina con tanto di bar che diciamo che in casa caliente non manca mai con la sala da pranzo poi abbiamo la parte del soggiorno con il pianoforte la tv un primo bagno e la camera una camera che dovrebbe essere la camera di don lotario che appunto è nella camera degli ospiti e poi in più abbiamo un giardino dove c'è anche dove ci sono i vasi per il giardinaggio anche se non penso che proprio alle donne caliente siano proprio donne di casa mentre su abbiamo le tre camere la camera gialla una camera viola e poi la camera rossa che credo sia questa credo sia della mamma effettivamente sì di catrina mentre questa gialla e questa rossa sono sicuramente di dina e mina caliente quindi ognuna di loro ha una camera allora conosciamoli un po meglio iniziamo proprio da don lotario che sta don e mina stanno parlando don ovviamente non ha un lavoro anche se in the sims 2 era un medico l'aspirazione romantico seriale ovviamente e vediamo le amicizie effettivamente lui è molto ovviamente amico di daniela con il quale le faremo avere lì gli faremo avere sicuramente un flirt e poi ci sono nina catrina e dina con cui non ha proprio grande amicizia questo non so perché ma vabbè qui ci abbiamo il nostro riccardino e il nostro biorna che penso si siano conosciuti l'altro giorno in palestra per quanto riguarda nina caliente nina caliente è amica sicuramente della sorella di dina e della madre catrina la sua aspirazione è modello di malizia quindi non è proprio una personcina delle migliori infatti ignobile romantica testa calda e pigra ovviamente non ha neanche lei un lavoro però a forma fisica a livello 10 per quanto riguarda don anche forma fisica a livello 10 la nostra dina caliente invece che mi è capitato di giocarci con lei maessa della mixologia come aspirazione abilità forma fisica e mixologia vediamo le amicizie anche lei catrina e nina ambiziosa attiva romantica ed essenza del sapore quindi lei sicuramente una ragazza un po più a posto infine abbiamo la madre di di nina e catrina che appunto è adulta testa calda romantica attraente e amante della famiglia il suo desiderio è trovare appunto l'anima gemella e qui tra i vari rapporti troviamo la nostra katia e il nostro salvatore che sono appunto amici allora il nostro don si sta diciamo dando da fare con nina caliente lui essendo ospite diciamo che dovrebbe un attimo almeno farci amicizia sfogge i muscoli fantastico ovviamente discuti delle tecniche di fitness chi meglio di loro può parlare di palestra e poi vedremo un attimo di fargli avere un magari o appuntamento con daniela o comunque migliorare l'amicizia con il nostro riccardo ah no devo andare su di lei effetti spettegola la nostra nina invece è proprio una personcina non proprio a modo molto bella e tra l'altro potrete notare che ho cambiato i capelli sia di dina che di nina perché dina sinceramente con i capelli corti non era molto realistica rispetto a magari come la conosciamo noi da the sims 2 appunto alla catrina sta andando a letto don sta andando al computer dato che stai andando ecco appunto catrina era questo al computer io direi di farti socializzare chatta con il nostro riccardo così ci portiamo avanti con le amicizie esatto la nostra nina invece vediamo un po' è andata in bagno e direi di farti accomodare qui per dormire lezioni di sim teste calde non è un sim testa calda questi sim sono spesso furenti solitamente ai danni di chi li circonda ma lei è molto energica invece e va a dormire quindi scampiamo dalla sua ira lui assolutamente lo facciamo socializzare con il nostro riccardo con il quale non vogliamo assolutamente fargli avere una storia perché comunque da un lotario e un don giovanni quindi sicuramente non può essere gay homosex la nostra dina invece a che ora torna torna a luna quindi ci siamo quasi lei ha bisogno di andare assolutamente in bagno quindi la faremo andare magari qui i soldi in questa famiglia sicuramente non mancano dovrebbe essere sta tornando lei ce la fa ha anche fatto pipì ma no allora lui va a dormire lì no assolutamente non mi piace questa cosa anzi si va la tua camera sarà questa mentre la nostra dina che mi sembra una personcina migliore la faremo dormire in un letto singolo ecco dina potrebbe essere una mogliettina per il nostro riccardo niente male magari li facciamo conoscere vediamo come va dato che riccardo con la prima ha avuto sfortuna in quanto era già sposata e con la seconda jade diciamo che non era proprio propensa al flirt loro stanno assolutamente dormendo domani vanno tutti al lavoro no dina no per l'appunto è la nostra catina catrina che si è appena svegliata invece sì allora stai andando al computer dovresti scrivere barzellette a lei è la colle è collega di della nostra catia scrivi barzellette ma così ti inizi ad allenare lei mi sa che anche a un livello non non malvagissimo infatti quattro della carriera intrattenitrice queste camere mi piacciono non sono male così quasi me le salvo solitamente le le case costruite da the sims non sono proprio il massimo invece queste questa qui questa villa non mi dispiace affatto sembra anche alquanto giocabile vediamo un attimo 50 per cento vediamo di finire dov'è lei è su se riesce a completare sarebbe anche fantastico a lei deve anche fare livello 3 di comicità livello 3 di chitarra o violino vabbè noi dalle loro carriere non ce ne frega niente però il loro obiettivo è quello quindi è invece lei vorrebbe anche trovare un fidanzato andare a due appuntamenti per avere un dollotario qui in casa diciamo che attiva un attimo l'ormone se proprio vogliamo parlarne ma ce l'hai fatta completato perfetto quindi andiamo a cucinare magari qualcosa servì la colazione uova strapazzate ovviamente in cucina sono delle 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 ciole assurde chiacchiera con dina con dina continua dina nina e catrina carine tra l'altro loro mi piacevano un sacco nella in the sims 2 nina si è svegliata to ovviamente c'ha una fame che si manierebbe pure un lupo no qui è il bar quindi ti facciamo magari sediti qui mai sediti quali sono i suoi obiettivi diventa giocosa e diventa flertante anche donna si è svegliato perché stai andando a cucinare si sta preparando catrina retina bellina questa cucina anche molto italiana ok io ti farei sedere qui tu magari prendi prendi una porzione anche e ti siedi qui e tu magari smettila di cucinare prendi una porzione e ti siedi qui si è svegliata anche dina quindi prendi una porzione e ti siedi qui così abbiamo tutta la famiglia riunita a magna a colazione tra l'altro ho appena ricevuto un messaggio da una mia amica che oggi aveva il suo primissimo esame in università e ha preso 30 quindi complimenti complimenti alla mia amica amica collega loro che mangiano e si scottano ad ogni boccone che prendono questo è un bug ragazzi che speriamo risolvano ecco i capelli di dina tra l'altro sono carinissimi secondo me e sono capelli di the sim squad usciamo insieme quindi ci sta chiedi della sua giornata dina è una persona buona racconta una storia sensazionale lui ovviamente fa colazione in mutande ed è tutto un bel vedere ecco qui pieno di muscoli e tatuaggi voilà che bella questa colazione tutti insieme mi è piaciuto un sacco assolutamente ecco te devi andare a far pipì vai don io direi che se da un lotario fa la sua bella pipì potrebbe no ovviamente ecco sta pulendo fatto la cosa migliore potremmo invitare il nostro vediamo se riponi il nostro ricardino così lo facciamo conoscere con dina invita nel lotto attuale lui è in qualche club non credo qui c'è il telefono che squilla katia zangardi vorrebbe venire ma porca non l'ho beccata vabbè peccato perché poteva venire così si iniziava a conoscere arriverà molto presto perfetto allora io direi il nostro caro don di dove sei a noi lui di fare la pipì e poi cambiarti assolutamente cambia d'abito quotidiani 1 ho cambiato anche gli abiti a don lotario no a don lotario no a dina le ho cambiati dina che sei cambia d'abito quotidiani 1 magari vai ad accogliere il nostro riccardo in splendida forma presentazione amichevole perché l'obiettivo perché è furente l'obiettivo era proprio quello di far conoscere dina con riccardo magari farli diventare anche amici dina è spettacolare ragazzi cerca di calmare prova asci almeno e poi magari sedetevi qui sediti e chiacchiera qui magari ce la fa ce l'ha fatta lei è intanto a qui niente non ce l'ha fatta ragazzi povera lui è furente ok allora ora ci dobbiamo proprio provare in tutti i modi innanzitutto rallegramolo che è furente complimento sincero discuti degli interessi ovviamente lui dirà della palestra ecco qua è diventato felice e lei invece ha acquisito abilità di carisma esalta che a lui discuti delle tecniche di fitness chiedi della sua giornata che sicuramente non è stata buona dato che era furente conversazione profonda chiedi della carriera perché così ragazzi in questo modo cerchiamo di vivere ok con loro ma anche da altri lati quindi con le altre famiglie dato che comunque loro anche da hanno da andare al lavoro hanno da risolvere un po di problemucci con le loro aspirazioni mentre con le altre famiglie possiamo concentrarci appunto per i rapporti ha scoperto che ha figliato che lavora come atleta quindi le sta anche bene anche se il fisico non è come quello di don lotario poi io gli chiederei anche se è single perché lei è romantica quindi ci sa fare questi sim tendono ad essere flertanti e possono diventare tristi se non hanno interazioni sociali e romantiche da un po' di tempo quindi direi che potremmo anche un po' provarci dato che il nostro riccardo invece è un po' sfigato al riguardo ancora impara a conoscere lei è ambiziosa parla della preparazione delle bevande perché lei invece è una che beve tantissimo il suo problema è proprio quello Riccardo ovviamente è single noi lo sapevamo già ma ora lo sa anche lei esprimi ammirazione e poi ci buttiamo sul lato romantico ragazzi chiedi di convivere no te prego flerta e poi ancora romantico complimentati per l'aspetto speriamo che ce la faccia discuti degli interessi dai dai proviamoci proviamoci assolutamente tanto secondo me ci sta voglio dire ancora discuti degli interessi mi sa di si ragazzi si si ci sta a parte il fatto che sono diventati già amici quindi ci sta tutto complimentati per l'aspetto anche se dovrebbe dovrebbe essere lui eh a darsi da fare però c'ha anche un po' di pancetta battuta da bordaggio no racconta una barzelletta sui marziani alterniamo il flirt al all'essere buffi flerta il baciamano ecco qui ragazzi poni una domanda spinta sussurra smancerie ci siamo ragazzi manda un bacio quella sta aumentando la malizia accoccolati ecco qui don lotario che è venuto a rompere un po' le palline si deve vedere la televisione proprio adesso flerta fanno tutto davanti a don lotario battuta di abbordaggio guarda nel profondo degli occhi adoro ci sarebbe anche il primo bacio fai un massaggio il bacio magari ve lo date nel giardino facciamoli venire qua chiacchiera qui sono tutti e due flirtanti ragazzi magari scocca anche il primo bacio dai dai giù dai dina forza beh dov'è il nostro riccardo è rimasto con don lotario no perchè non fa chiama da te questo sim deve essere prima invitato addio addio aiuto allora facciamo così flerta chiedi di diventare il fidanzato cioè lei corre proprio ora devo proprio andare no vabbè non fa niente comunque ci siamo dati da fare sono piccioncini non sono proprio fidanzati quindi ragazzi una piccola giornata con i nostri con la nostra famiglia caliente ha fatto sì che la nostra dina si interessasse al nostro riccardo magari ci rimaniamo un'altra giornata anche con loro chi lo sa non lo so devo vedere un po' però niente questo era un episodio un po' così un po' speciale abbiamo visto la nuova casa abbiamo visto il nostro riccardo alle prese condina abbiamo visto questa famiglia un po' strampalata e questa casa molto bella io vi ricordo come al solito di fare ciò che volete perchè nell'ultimo episodio non l'ho detto condividete stavo cadendo condividete il video mettete mi piace alla pagina mettete mi piace al video di youtube iscrivetevi al canale consigliatelo fate ciò che volete io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo episodio dal vostro Daniele Danzu ciao a tutti